Ennesimo appuntamento di Prima della Prima in TV, ennesimo rapporto con gli studenti, questa volta separato del Don Quixote. Che cosa è emerso da questi ragazzi? Beh, la cosa più interessante è che con lo stimolo delle telecamere fanno delle ricerche molto approfondite e sono molto preparati, si sono preparati davvero bene perché comunque sono temi complessi che devono riassumere in poche parole e poi la cosa interessante sono le loro riflessioni personali, per esempio hanno collegato l'imposizione che viene fatta dal padre Achiri per il matrimonio combinato con l'attualità dove queste cose succedono ancora, addirittura in Italia, la vicenda della ragazza pakistana ammazzata dai genitori. I ragazzi anche nella loro spontaneità, credo, hanno reinterpretato quello che comunque è un momento storico, quello del Don Quixote e che probabilmente li vedrà protagonisti anche nel vederlo in teatro. Eh sì, assolutamente, verranno qui in teatro, sarà presentato dall'Ukranian Classical Ballet, è una compagnia importante che torna qui a Ferrara nella versione coreografica di Viktor Liktinov, importante maître de ballet anche internazionale. Come è stato inserire i ragazzi in questo contesto che tra l'altro li ha fatti vivere come protagonisti questo Don Quixote? Ma è stata una sfida perché Don Quixote, la nostra preparazione, la mia competenza era dal punto di vista storico-letterario, quindi la difficoltà è stata quella di calare, di dare una chiave di lettura storica-letteraria ma calarlo anche nella storia del balletto e siamo riusciti attraverso un filo conduttore che è quello della follia, follia che parte da Erasmo da Rotterdam nel 1400, che poi accompagna la visione del romanzo picaresco fino a Shakespeare e all'Orlando Furioso. Come è stato intanto raccontare il Don Quixote? Diciamo che è stata un'esperienza particolare e nuova per noi sicuramente, è molto interessante, siamo contenti di aver partecipato al 100%. Tu invece ti chiami? Margherita. Nel tuo caso invece che cosa hai provato nell'interpretare tutto questo? È stato veramente emozionante, come prima volta ci sono state alcune, comunque è stato particolare, però l'abbiamo tutti vissuta al meglio. Invece il tuo nome? Paola. Paola, allora nel tuo caso invece, intanto come è stato lavorare in squadra con tutta la tua classe? Allora, la mia classe, cioè, è la mia classe, quindi diciamo che stiamo bene insieme, mi sono trovata molto bene. Quando lavoriamo in gruppo devo dire che l'ambiente è sempre molto piacevole, mi piace molto fare progetti con loro. Se c'è qualcosa del Don Quixote che ti ha colpito, che cosa ti ha emozionato particolarmente? Il modo in cui lui affronta appunto il mondo attraverso la sua visione particolarmente diversa, è innovativa attraverso appunto la follia. Grazie.